Se vinci questo scontro torni in prima linea, se perdi è finita, guadagnati la libertà soldato Se vinci questo scontro è finita, guadagnati a rientrare in azione Il nostro bagno è il via libera per il rischieramento Quindi andiamo parati da anni, se c'è qualcuno, andai a nene C'è questo, c'è chi non c'è chi non c'è, ma c'è chi non c'è Questa è un campo che mi ha fatto C'è un campo che mi ha fatto? Che niente E' un'altra cosa andiamo a guardare E' un'altra cosa E' un raparello Stavolta l'abbiamo perso, ci ripariamo alla prossima Giù le mani E' un'altra cosa 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 E' un cibo È U melo Cappale Adi O consegue Oh no Dere C'è È un cladultato che cosa? è vero è vero è vero ah ha importato hai visto? hai che non ha ricord ha importato ha importato come si riporti E sto qui Naccom L'resetato L'esetato L'esetato è da l'esetto E andamio dell'esetico L'esetato è da l'esetto Non c'è la rica quindi mi sono scattato quando mi sono scattato quando mi sono scattato mi sono scattato il mio caso ok, next watch oh, cosa è che? perché ci sono stati fatti non c'è il momento che non vedo Miko Imbolo Ha buttato qualcuno! Gioca rata eh What the f***? Ui! Ok, siamo dentro Attenzione a eventuali movimenti Cookey, io ho una dita Chinese people, talaga F2P, talaga Chinese, eh Sino Panorin natin pa hanggang dulu Yung ibang, yung ibang player Ui! Wala naman, wala naman sususcriptin tayo Apo, alam niya agad Wala naman, diba Gagod Alam niya agad Alam niya agad na meron d'yan Oh diba, gagaw Sapto ang pumasik Mapakraimbat Yung kakampi, tignan natin Yaka kay G4 Silipat ako Gaghi, Gaghi, Chines yung pangalan, eh. Radar personale di Mico e Imbolo, ha puntato qualcuno! Asa, eh? Buong quesio, buong quesio. Pantayon, pantayon, yun, 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 yun. Gaghi, 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 Gaghi e non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla e non c'è nulla e non c'è nulla c'è nulla carica oh my god si chi lo sapeva non c'è nulla a partita abuti ha, nabawas n'siner apakito natalaw na tawa mo gagog, gagog ha, kiro din a tayo sa labai ni ni Sì, è stato un po' di più, è stato un po' di più, è stato un po' di più. Non c'è un po' di più, è stato molto più lungo, ma... È stato molto lungo, ma tutto è stato un po' di più. Oh, c'è un po' di più. Bobo, non c'è. C'è un po' di più. È stato un po' di più, non c'è un po' di più. C'è un po' di più, è stato un po' di più che il fuoco ma la vita. Oh, c'è anche un'ozino, il fuoco può rispondere. È stato un po' di più. Fvivere, ieri. Fisesti. il mio mission non lo so è stato non lo so ben non lo so non lo so è stato un'auto non lo so non lo so non lo so non lo so Non c'è un prefire, bisogna avere la lock-on e poi la scuola è la lock-on Voi vedere che su screen è la lock-on ma non c'è la lock-on, ma non c'è la porta Ma non c'è la porta, non c'è la porta Non puoi dire Non c'è la porta Non c'è la porta Non c'è la porta Non c'è la porta Gaghi 30 skills qui il signo è simbolo il reddit oh i Gaghi e tutto non è cazzo no ora sbagliare i due sono attraverso attraverso i lostrò i stessi stessi la hat ok 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 chi non è nella zona sicura si dia una mossa GG, Sir Chessimo Chessimo Ma anche se si non c'è l'eserciato, come parla Ci sono qui Paggogo C'è una macchina, c'è un po' di rinforo Ah, c'è un po' di rinforo Oh s**t, c'è un po' di headshot C'è un po' di X-50 C'è un po' di headshot C'è un po' di Chinese, non c'è un po' di Korean Oh C'è un po' di AX-50 Oh, ospite C'è un po' diiden C'è un po' di Il bloc Un po' di Un po' di Un po' di Non è la canzone che hai fatto la banana, non c'è nulla, non puoi entrare. Grazie